allora c'è un po di ecco ok questo video per dirvi che c'è stata fatta una donazione c'è stato regalato un portatile sentiamo la mia gatta dalla ditta di Luigi Mereu ci è stato regalato questo portatile e finalmente riusciamo a avere un computer un pochino più potente per poter gestire sia i video ma anche per la registrazione dell'audio abbiamo già provato delle cose e sono molto soddisfatto e quindi sono più contento perché appunto l'etichetta adesso ha un computer più potente per poter registrare i brani e poterli caricare sul distributore molto più velocemente riesca a gestire meglio anche i video questo è fatto con due videocamere una qua e una lì adesso stiamo registrando sul computer niente telefono e tutto quanto quindi sentite abbastanza particolare la ditta di Luigi mi ha proprio regalato questo computer e siamo veramente soddisfatti volevo chiedere che se qualcuno ha strumenti che non usa più e tutto il resto sono bene per poter magari controllare e poterli utilizzare e poterli utilizzare e per farli utilizzare magari anche ai nostri ai nostri gruppi che abbiamo quindi se avete appunto degli strumenti che non usate più e se volete fare una cosa buona donateceli noi le utilizzeremo oppure le possiamo aggiustare e rivendere per poter magari finalmente pubblicare un vinile o un cd perché sono tanti soldi che servono e niente volevo dirvi solamente questo dunque dovrebbe uscire fra due settimane non so bene perché abbiamo avuto dei problemi con la distribuzione il vinile la riedizione del cd dei forti drunks il cd è del 2005 e noi lo stiamo pubblicando dovrebbe uscire forse il 12 ma non è detto perché stiamo un attimo in lotta con il distributore per delle baghe che non sto a spiegare perché sono cose rompimenti ogni volta che ci sono dei brani loro pensano che sono stati copiati cioè il youtube id impazzisce e riconosce brani a caso non so se avete mai visto brani su youtube e poi sotto il copyright di qualcun altro che non c'entra niente ecco sarà successo una cosa del genere e quindi abbiamo avuto questo problema quindi stiamo aspettando che ci risolvano questo problema così almeno un altro disco viene prodotto volevo provare appunto se si sente questo è il nostro tastiere sempre sentito magari sono anche un po' alte comunque adesso è solo perché l'abbiamo appena attaccato il computer ho visto subito che regge due videocamere cioè per noi è veramente cosa lussuriosa e in più l'audio anche ok? vi ringrazio alla prossima grazie a tutti